Signori, appena finita Italia-Turchia, la prima partita del nostro girone di qualificazione per Eurobasket e convincente vittoria dell'Italia, convincente Gianmarco Pozzecco, ragazzi. Lo sto dicendo, lo sto dicendo, convincente Gianmarco Pozzecco. E non è una calappia views. Sono serio, si parte. E' una bella Italia quella che vince nella partita di debutto in questo girone di qualificazione di Eurobasket contro una Turchia, seppur priva dei giocatori NBA, Senghun e Osman in particolar modo, anche l'Italia ovviamente priva di Fontecchio e Gallinari, anche se sul Gallo capiamo cosa vorrà fare e il Pozz cosa vorrà fare con il Gallo per il preolimpico, ammesso e non concesso che il Gallo non vada troppo avanti con Milwaukee e soprattutto nelle eventuali, ovviamente, Olimpiadi di Parigi dell'estate prossima. E' stata una bella Italia, è stata una serata pressoché perfetta. In questo tipo di partite contro una nazionale come la Turchia, negli anni che furono, saremmo arrivati comunque punto a punto e anche giocando malino. Invece quest'Italia ha un suo modo d'essere che è la costante da, diciamo, Olimpia di Tokyo, quindi dal Meo Sacchetti al Pozzecco. E' una costante, cioè un grande gruppo, e lo ha ribadito Nick Melli a fine partita, supportato da una grande, grande, grande intensità difensiva, sia di squadra, e quella non è mai mancata, ma anche e soprattutto da parte dei singoli. Lo strappo è avvenuto con Paiola Petruccelli a veramente imperversare e rendere la vita un inferno ai portatori di Palaturchi. Mannion, che ti dà quel qualcosa in più in attacco, anche quella vena di follia, di tiri, diciamo, presi, bad shot, cioè i tiri alla basile di un tempo che però poi entravano. Ecco, non ancora Nico, però, insomma, lo stile è quello lì. E soprattutto, insomma, un'intensità difensiva di un certo tipo. L'Italia ha messo in enorme difficoltà i portatori di palla della Turchia e questo è un ottimo segnale, è un ottimo segnale. E' news di queste ore che Petrucci, insomma, stia provando a naturalizzare Drew Eubanks, che qualche giorno fa si è preso un pugno in faccia da Isaiah Stewart. Se volessimo fare un paragone, sono i Portland Trailblazers che scelgono alla 2, nel famoso draft del 1984, Sam Bowie, invece che Michael Jordan. Ora, non si sta parlando di Sam Bowie quando parliamo di Drew Eubanks, non si sta parlando ovviamente di Michael Jordan quando ci riferiamo a Dante Di Vincenzo. Però, a livello di quel che serve, purtroppo, e dico purtroppo, è una scelta che può anche starci. Perché? Perché ci servono rimbalzisti lunghi e perché abbiamo visto anche in questa partita che da un punto di vista difensivo sugli esterni siamo veramente tanto, tanto, tanto coperti e tendenzialmente anche piuttosto giovani. E' chiaro che Di Vincenzo, nelle ultime due settimane in NBA, viaggia a 24-25 di media, una cosa folle ai New York Knicks di Tibodo. E noi abbiamo uno slot per naturalizzare una persona. E in questo momento si sta dando la priorità a naturalizzare un giocatore che possa essere disponibile già nel preolimpico, cosa che con Di Vincenzo non sarebbe accaduta e almeno così ha detto Petrucci. E' chiaro che Di Vincenzo ti dava quel qualcosa in più. Un po' perché, insomma, qualitativamente è meglio di Eubanks, ci mancherebbe, ma anche per la coppia di Rossi nel backhand, ragazzi. Cioè, la coppia Mannion di Vincenzo sarebbe il top. Manca solo il Franz e facciamo scopone. Per quanto riguarda l'Italia, non è che ci sia tanto da dire. E' stata una partita tutto sommato tranquilla, controllata. Non ho trovato giocatori che abbiano giocato male o che si siano trovati, non so, sganciati dal resto della squadra. Tutti hanno avuto il loro ruolo, compreso un Polonara, ritrovato anche forse, anzi, sicuramente più sereno di quanto non lo vedevamo e non l'abbiamo visto negli ultimi mondiali. E poi, insomma, il resto l'ha fatto la difesa forte, i tanti canestri in transizione, un Nick Melly solidissimo e gran realizzatore, soprattutto a inizio partita. E che altro dire? Niente. Bella Italia, bella vittoria, si parte col piede giusto, adesso domenica in Ungheria. per provare, insomma, ad allungare ulteriormente. Dichiarazioni post partita di coach Pozzecco. Mi hanno convinto, o meglio, è sempre la stessa storia, nel senso, i miei ragazzi, grande cuore, grande spirito, eccetera. Però, quantomeno, a domanda di Jerry De Rosa, legata alle difficoltà contro Mamutoglu e contro Biberovic, Pozzecco ha risposto con un termine tecnico. Insomma, abbiamo sofferto, devo fare i complimenti ad Ataman, abbiamo sofferto il loro pin down, soprattutto con Mamutoglu, verso, insomma, il terzo o quarto periodo. E quindi mi auguro, insomma, che l'Italia possa lavorarci sul come difendere meglio quella specifica situazione. Per cui, insomma, gradito, non è che ci fosse molto da dire, è stata una serata di festa, in onore anche di Charlie Recalcati, in cui Melli è tornato, insomma, a Varese, dopo 13 anni di... come dire, dopo aver girovagato per il mondo, insomma. E tutto molto bello. Tutto molto bello. È una vittoria che sicuramente ci dà speranze e ci dà una convinzione maggiore. Ed ora, ecco, attendiamo che arrivi Fontecchio, che deve, deve, deve essere il giocatore a cui ti affidi nei momenti di difficoltà. Perché abbiamo visto quando la Turchia è rientrata a meno 6, abbiamo avuto una serie di possessi offensivi gestiti dal primo che capitava con la palla in mano, un tiraccio di Tonut, un tiraccio di Mannion, un tiraccio di Paiola. Se invece riesci a identificare il tuo Gotugai, soprattutto a livello nazionale, quello ti fa la differenza. Poi il Gotugai può anche sbagliare la scelta, sbagliare il tiro, ma sai che puoi andare da lui e lui può generare attacco perché le squadre sanno che andrai da lui e magari cercando il raddoppio, un blitz o qualcosa, la difesa fa scelte che poi ti possono rendere l'attacco migliore di quanto non lo sia adesso. Fontecchio può diventare quel tipo di giocatore? Sì. Gallinari lo sarebbe già, ma bisogna capire se viene o meno. Comunque, Bell'Italia. Bell'Italia, sono contento, è stata una serata tra l'altro tranquilla e non palpitante come le ultime. E avanti così, ragazzi. Piccolo commento a caldo, non ho detto niente di male, credo, anzi ho fatto i complimenti a tutti, nel pieno spirito di Ital Basket, del basket in Italia. Signori, buona serata e buonanotte. Il France.